13 dicembre 1974 nasce la Repubblica di Malta. Stato autonomo dal 1964 ma suddito del Regno Unito, Malta diviene Repubblica parlamentare fondata sulla democrazia rappresentativa. Anthony Mamon è il primo presidente, Don Mintoff il premier. La sua difesa in caso d'attacco è garantita dalle forze armate nazionali e dalla Repubblica italiana. Capitale viene proclamata la Valletta, città fortezza, testimone della gloriosa storia dell'isola. Fondata sulla roccia del monte Sheberras, picco sul mare, con due profondi porti naturali, è patrimonio dell'umanità. Abitata da 7.000 anni, Malta ha lingua, popolo e cultura di eredità cartaginese, fenicia, italiana, araba e britannica. L'8 marzo 2003 un referendum ne sancisce l'adesione all'Unione europea e cinque anni dopo l'euro diventa moneta ufficiale. Tra le caratteristiche peculiari della Repubblica la lingua ufficiale, il maltese è l'unico idioma semitico scritto in caratteri latini. Grazie a tutti.